Questa sentenza riconosce sostanzialmente che sul litorale di Roma c'è la mafia, si può parlare di mafia a Roma e esprimiamo soddisfazione per questa sentenza. Io devo ringraziare la magistratura che ha fatto un lavoro estremamente complesso, duro, ringrazio le forze dell'ordine e ringrazio soprattutto tutti quei cittadini che continuano a credere nelle istituzioni, che vanno avanti, che combattono l'illegalità, che ci mettono la faccia, che denunciano e noi siamo qui, io in qualità di sindaco rappresento il Comune di Roma, sono qui per rappresentare la vicinanza a tutti quei cittadini che ogni giorno fanno e compiono azioni per contrastare l'illegalità, il crimine in questo caso la mafia, quindi noi siamo qui, le istituzioni insieme possono vincere, dobbiamo restituire fiducia a tutti quei cittadini onesti che sono la maggioranza e che per troppo tempo hanno avuto paura.